Di nuovo insieme in questa mattinata ci stiamo addentrando all'interno della settimana santa, la settimana più cara ai cristiani che culminerà con la domenica di Pasqua e ci piace questa mattina parlare di una tradizione molto bella che si è radicata a pochi chilometri da San Giovanni Rotondo a Foggia grazie alla intraprendenza di Gaetano Fania e sto parlando della passione vivente di Foggia e noi questa mattina state vedendo le immagini alcune immagini dell'ultima edizione stamattina abbiamo con noi il piacere di ospitare anche se solo virtualmente nei nostri studi proprio l'ideatore Gaetano buongiorno grazie per essere con noi buongiorno buongiorno a tutti allora Gaetano le passioni viventi sono come dicevo una delle tradizioni più care del popolo cristiano nella settimana santa che necessitano di tanta preparazione di tanto studio di tanta intraprendenza come dicevo prima la prima domanda come nasce allora la passione vivente di Foggia allora la passione Foggia nacque esattamente nel 2012 e io facevo parte di una corale a Sant'Alfonso dei Liguori qui a Foggia e mentre stavamo celebrando una messa la sera ci ritrovamo a mangiare una semplice pizza con tutti gli amici a un certo punto tra una cosa e l'altra era il periodo il periodo pasquale dicemmo beh perché non organizziamo una via crucis tanto per ricordare i vecchi tempi io all'inizio fui titubante e dici ma strano io poi vengo da un altro mondo non credo che questa cosa sia fattibile però quella sera mi ritrovai in chiesa con il crocifisso davanti era enorme il crocifisso di Sant'Alfonso e lo guardai e dissi ma tu che cosa vuoi da me cosa cosa cerchi quella sera stessa fece un sogno un sogno strano dove il mio papà mi disse vai quello che devi fare fallo presto e anche farlo apposta le stesse parole di Giuda alla fine mi convinsi e incuriosito cominciai a vedere alcuni film della passione tra cui è quello di Mel Gibson certo fui folgorato le immagini crude cruente la verità perché alla fine tutto gira intorno a quella verità quella verità che il il regista voleva far vedere e che noi naturalmente le sentiamo dalle parole del Vangelo allora cominciai a capire che forse era arrivato il momento di fare qualcosa anche qui a foggia e cominciamo con una semplice passione cantata dopodiché andiamo andiamo avanti nel tempo nel 2014 e continuiamo a fare una passione un po più ampia fino ad arrivare al 2018 qui alla parrocchia di Gesù Maria dove alla fine ci fu l'esplua di questa passione una turbanza Gaetano la tua che poi per certi versi si è trasformata poi in quella che è l'interpretazione del ruolo principale perché ecco tu sei anche oltre ad essere il lidiatore e il regista sei anche l'interprete della figura di Gesù del Cristo e quindi immagino che ci sia stato un approccio ancora più direi intimo ecco a questa figura figura così straordinaria che vive questi ultimi attimi della sua vita in una maniera che nessuno augurerebbe neanche al peggior nemico bravissimo Leonardo quindi mi sono immedesimato per un attimo perché alla fine non ci si può immedesimare in Dio in Gesù però ho cercato nel mio piccolo modo di vedere capire capire che cosa avesse provato il Signore in quel momento naturalmente la barba e i capelli li ho sempre avuti lunghi neanche a far l'opposta fu proprio questo il diciamo la causa dell'evento poi alla fine però quello che quello che voglio voglio far capire è che effettivamente noi ci guardiamo un attimo quello che succede il giorno d'oggi quello che sta accadendo e ci scandalizziamo però effettivamente anche duemila anni fa avevamo le stesse cose però un conto è sentirle dai Vangeli un conto è vederla certo è un'altra cosa è un'altra cosa Gaetano il tuo Gesù permettimi questa espressione molto con tante virgolette perché ecco Gesù è uno ovviamente a cosa è ispirato a chi è ispirato allora il mio punto di vista chiamiamolo così secondo secondo me il personaggio che interpreto Gesù è ispirato molto a una un'esperienza come dire personale perché reputo che ognuno di noi nel suo molti attori tra l'altro quando interpretano i personaggi della passione hanno molto di sé interno al personaggio all'anima del personaggio quindi c'è molto di mio in questo personaggio cercherò di portarlo nel migliore dei modi però Gesù io lo vedo veramente come una persona che ha subito tanto ma vuole dare tanto vuole dare tanto e non gli è stato dato il modo e il tempo parlaci un po' degli altri interpreti Gaetano sì naturalmente con me ci sono come ben sapete gli altri attori c'è il demonio perché nella raffigurazione di Mel Gibson c'era il demonio e nel nostro caso non potevano mancare quindi il nostro demonio Veronica di Sibio che è una donna interpreta questo personaggio molto accattivante con una furia cioè con quello che noi crediamo con quello che io posso cercare di capire il demonio si affianchi a ognuno di noi lo cerca di stigare in tutte le maniere quindi cerca di essere molto persuasivo poi abbiamo la Madonna che è interpretata da Elisa Russo ha una sua concezione di essere Madonna quindi sente che il figlio lo sta perdendo ma non può farci nulla quindi si rammarica di questo perché come tutte le mamme sappiamo nessuno vuole perdere il proprio figlio poi abbiamo Pietro Pietro che è Domenico Metta la cui personaggio sente molto l'animo di Pietro il sentimento di Pietro dove lui veramente vuole donare tanto a Gesù ma nello stesso momento si perde con il canto del gallo quindi alla fine è un essere umano come tutti quanti gli altri e può sbagliare ma a differenza di altri questo suo errore diventa il suo punto d'attacco la sua pietra la sua colonna portante che porterà poi il cristianesimo come ben sappiamo ai livelli alti Gaetano c'è una differenza sostanziale tra le varie rappresentazioni del Vangelo le più famose ovviamente la passione vivente e il cosiddetto presepe vivente ecco c'è questo stacco direi clamoroso ecco tra il clima che si respira nel Natale ecco è quello della Pasqua e proprio per questo motivo credo e ti chiedo c'è un modo per approcciarsi a vivere questo momento questa rappresentazione indipendentemente dal fatto che si svolga a Foggia o a Torino o a Milano ma c'è un filo rosso che in qualche maniera deve coinvolgere anche lo spettatore che va ad assistere a questa rappresentazione che è come dicevamo uno dei momenti il momento più duro della vita di Gesù sì diciamo che lo spettatore dovrebbe sotto un certo aspetto immedesimarsi cioè come se stesse guardando un film in prima fila quindi io credo che oggi questo tipo di tradizione che ormai è andata persa sia opportuno farla rientrare come tradizione classica diciamo nei paesi è più sentita ma qui a Foggia ormai non c'è da un bel po' di tempo quantomeno in piccole fazioni non c'è un ritorno alla vera tradizione popolare ossia la cosiddetta processione che parte dalla cattedrale arriva all'icona vetere come tanti anni fa vedevo io da piccolo con mio padre andavamo in processione vedevamo questo povero Cristo nudo con la croce e portava questo peso fino all'icona vetere e queste cose ormai sono dimenticate ci sono i social c'è tanta tecnologia ma abbiamo bisogno anche di tanta fede per ritornare poi a capire quello che si cerca nel prossimo o nella Chiesa Ghetano l'ultima domanda prima di chiudere i tuoi collaboratori coloro i quali ovviamente interpretano un ruolo all'interno di questa rappresentazione come si sono approcciati magari lo hanno fatto con superficialità all'inizio e poi hanno cambiato atteggiamento spiegaci un po' come cambia anche poi la vita di un attore la vita di una persona che interpreta un personaggio della passione vivente si in effetti molti attori ma anche curiosi, dilettanti si sono avvicinati un po' per curiosità diciamo che la prima volta che andai a fare come si suol dire il casting ma non era un casting più che altro un approccio con amici fu con il copione in mano andai col copione della passione e dissi ragazzi io avrei questo progetto in mano è un progetto prettamente religioso e ha uno scopo principale evangelizzare il testo di Dio molti dissero vabbè io l'ho fatto io ho fatto qualcosina ci proviamo ci avviciniamo vediamo che cosa proponi vediamo che cosa vuoi far capire naturalmente poi man mano che si provava l'emozione e la curiosità diventava sempre più grande tanto che iniziamo con tre personaggi io, il demonio e la maddalena e dopodiché come vedete ci siamo ritrovati oltre 80 persone persone che non credevano alcuni attori non credevano erano atei però dopo aver fatto la passione si sono talmente incuriositi che a un certo punto hanno cominciato a dire beh forse qualcosa di vero ci sta forse quello che noi stiamo vedendo al giorno d'oggi non è quello che ci aspettiamo ma è quello che vogliamo e quindi se tu vuoi quello che stai cercando lo troverai altrimenti rimarrai sempre una persona un personaggio insieme a tanti altri e allora Gaetano noi auspichiamo che la curiosità di alcuni attori diventi che poi si è trasformata potremmo dire in sequela vera e propria diventi davvero anche per chi vi assiste anche in chi vi assiste ecco vi sia un processo analogo di trasformazione della fede che questo momento che questa settimana che stiamo vivendo può davvero in qualche maniera essere inculcata in ciascuno di noi io ti ringrazio di cuore Gaetano per essere stato con noi gentilissimi io vorrei ultimare solo con questa frase noi prima di cominciare le prove ci mettiamo in preghiera e cerchiamo di comunicare con il Signore però appena finita la preghiera dopo il Padre Nostro diciamo sempre che tutto quello che facciamo è per la gloria di Dio quindi tutto per la gloria di Dio arrivederci a tutti grazie grazie mille grazie Gaetano buona Pasqua a te agli attori della Passione Vivente di Foggia noi ci fermiamo per la pubblicità a pochi istanti di pausa e poi ancora qui in diretta grazie a tutti